Sono stati consegnati a Ponticelli nuovi alloggi di edilizia residenziale popolare realizzati dal Comune di Napoli con risorse proprie e fondi del PON Metro per un totale di oltre 4 milioni di euro. Sono destinati a 32 nuclei familiari che dal terremoto del 1980 erano sistemati in un'area adiacente, una scelta che per l'assessore alle politiche sociali e al lavoro Monica Bonanno consente di mantenere l'identità territoriale e il legame con la comunità scolastica. Gli alloggi sono ubicati in due palazzine con una corte attrezzata con giostrine oltre a pannelli solari per l'efficientamento e il risparmio energetico, box auto e cantina. La costruzione è iniziata nel 2016, l'ingresso è avvenuto nelle settimane scorse ed oggi le famiglie sono state ricevute a Palazzo San Giacomo dal sindaco Luigi De Magistris, dall'assessore Bonanno e dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Fucito, anche per espletare le ultime informalità. Il sindaco ha sottolineato in questa occasione che il diritto alla casa è fondamento della dignità dell'uomo e che l'impegno dell'amministrazione è quello di provare a non lasciare nessuno indietro nonostante le tante difficoltà e l'insufficienza delle risorse economiche dell'ente che è in regime di predissesto.